E anche quest'anno, cari miei amici interisti, si troviamo a commentare l'ennesima stagione buttata nella merda, nella merda, perché alla fine tutto il buono che abbiamo fatto, fai due partite, un pareggio a Torino e ti fai inculare dalla Sampdoria in casa e butti tutto quanto nel cesso totale. Ora io una cosa voglio dire, ora mi dovrò ripuppare tutti i cacacazzi di Conte, Conte qui, Conte là, Conte su, già mi basta, ma Brozovic, puttana di quella Eva, che cazzo ha nel cervello? C'ha la merda nel cervello Brozovic, ha la merda, perché fare una partita a base di merda così e poi concluderla con quel meraviglioso colpo di mano che solo un handicappato, e con tutto il rispetto per handicappati che confronto a lui ha voglia, come cazzo si fa, dico io, come cazzo si fa fare una stronzata così? Ma perché a noi quando piove deve cazzo sempre grandinare? Non poteva finire uno a uno e chiudevi il discorso? No, noi dobbiamo fare sempre le cagate, le cagate quelle belle, quelle storiche, quelle extra, ma vaffanculo, va! Fottetevi proprio, fottetevi, siete un branco di mezze seghe. Amen!